Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania, anche questo sarà un video natalizio e sarà un video di fai da te in collaborazione con Selena del canale youtube Sweet My Life. Vi lascio giù nell'info box tutti i contatti, sul suo canale troverete molti video di fai da te, beauty e nail art e qualche ricetta. I calendari dell'avvento sono davvero molto belli e quest'anno ho pensato che sarebbe stato carino realizzarne uno tutto da me. Ciao a tutti. Per la realizzazione del calendario dell'avvento ho utilizzato il set di 24 scatole decorate preso da Lidl, delle mollettine in legno e del nastro rosso. All'interno della confezione ci sono le 24 scatole che ho costruito seguendo le istruzioni. Il tutto è davvero molto facile, potete farlo con i bambini che si divertiranno con voi, i tag, il nastro e le decorazioni dorate. Da ogni foglio si ottengono una scatola e due tag, uno tondo e uno rettangolare. All'interno della confezione. All'interno della confezione. Grazie a tutti. Dopo aver costruito la scatola ho decorato il tag rettangolare con il numero del giorno in cui verrà aperta e quello tondo con una delle decorazioni presenti sul foglio. Ho deciso di inserire in ogni scatola delle caramelle e in più nei giorni speciali quali l'8 dicembre, il 13 il giorno di Santa Lucia ed il 24 naturalmente dei cioccolatini. Ovviamente in base a chi è destinato il calendario si può modificare e quindi variare il contenuto di ogni scatola personalizzandolo. Ora che la scatola è piena con una scrina blocco i tag creando un fioco ed il gioco è fatto. Avete visto com'è semplice realizzare il calendario dell'avvento? Con pochi e semplici passi lo possiamo fare in casa anche con l'aiuto dei più piccoli. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi ricordo di passare dal canale di Selena per vedere la sua versione del calendario dell'avvento. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!